Sì, ma cosa stai a casa, almeno la sera, camminare, esce, no? Perché ti mette? Ho la vista, non ho un monotelo. Perché al mare non esce andare. Tu alle nove, che ha detto? Ah, sì. Ma dormo anche, non è che dormo, dormo, sì, più o più già. Ah, sì, buono. Fino a sei a mezza. Ah, sei a mezza si sveglia automaticamente? Sveglia a sei a mezza. Mi bevi un po' un po'. Hai fatto bene, guarda che buono, perché l'età che hai, tu dormi alle nove, le dici, o l'aria è giusto, alle sveglia alle sei, e poi le fai con la mia, vai. E' da tutto il dottore consigliabile. Buono. Non è tutta la casa. Ma io devi uscire. E' da tutto il dottore. E' da tutto il dottore. A mezza, pot c'è un po' un po'. Oh, ci vado io. Ah, bravo. Ma è che? Sì, ogni tanto va bene, però non tutte le sere. Prima tutte le sere, no. Ma sì, dai, sei al mare. Alla? Alla in lei, sei più tranquilla. Adesso? Eh? No, ho trovato lei, perché tu trovi qualcuno che ti porta tutte le sere fuori. Ananasti. Ananasti. E posate non ce ne sono qua. Esatto. Mi sono abituato, con 10 posate. È vero. No, devi arrangiare perché se aspetta loro due cameriere, non ce la fai. Eh. Tu vedi questo in garacca. Questo è tutto. Questo è calamari con uova di 100 anni. Buono. 100 anni. Sì. Vedi il calamari? Buono. Sì. 100 anni. Con uova, caichem. Sì. È un po' caichem. Sì. Questo è piantino. Camberetti. Sì. Alla... Alla foglia di... Sì. 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 Eh... Questo è, diciamo... A basilico. Molto bene. 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 Se hai fregato un po' di rilla. Se hai riuscito a fregare un po' di rilla. Sì, sì. Tutti ... Un po' di Heaven. Un po' di Heaven. Un po' di Fromya, con ab bulk contro i lasciati il 앉asse. Hoουν sono fetcher un po' di glove, hoate!? È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo va aitu venire. Sì, la fai tì. La fai tì che non lo is. Hai un pezzi qua? Sì, sì, è un pezzi. Acco dolce. Acco dolce. Hai un pezzi? Hai un pezzi? Tiivo hizo luce? Hai un pezzi? Hai un pezzi? Besides, è un pezzi, si ho Dodge, perché normalmente non raggi vuoi. Lei di bella che non lo imp Congrasi, perché li farai si vedi. Qui aveva anche? Non lo imp الطaciamo. È un pezzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.